Ciao a tutti! Nuovo video giveaway! Allora, questo è l'unico e solo giveaway estivo perché? Perché ultimamente comunque come vedete sono un po' assente dal canale perché comunque sto facendo un po' di visite mediche per la gravidanza ah, per chi non lo sapete sono incinta, sono quasi al quinto mese sono a fine quarto mese e volevo appunto rimanere in contatto con voi comunque anche con video piccolini così, con qualche video chiacchiriccio un paio e almeno questo giveaway Allora, la bustina è questa qua che non so come mai mi è venuta via la... come si chiama? Il nastrino e ora devo capire come chiuderlo per poi spedirvelo Comunque i premi vi arriveranno in questa busta si vede già un pochino il contenuto e vi faccio vedere le cose un pochino più nel dettaglio Allora, avrete già notato questa mega con la nona Ovviamente, come al solito, sono tutti di Stella Zeta No, Stella Zeta non sponsorizza i giveaway Purtroppo sono una sfigata Vi arriverà appunto questa collana con queste pietre rosse che per l'estate, secondo me, per le sere d'estate è molto bella perché dà un punto luce senza essere troppo pacchiana perché come vedete non è tanto... cioè non brilla tantissimo dà giusto anche un tocco di colore per le vostre serate e io la trovo molto bella e io ce l'ho uguale Ce l'avevo doppia e una l'ho voluta regalare a voi Poi, ecco adesso, secondo come, mi servirà Simone perché mi si sono intrecciate tutte le catenine Vediamo un attimo se ce la faccio Pensavo che la situazione fosse peggiore ma ce l'ho fatta da sola senza chiamare l'affare mitologico che ho sul divano stasera Allora, una delle collane, perché sono diverse collane sono una, due, tre, quattro, cinque, sei perché alla fine queste qui sono due però diciamo che è bello abbondante questo giveaway Allora, una delle collane che vi arriverà è questo fiorellino che anche questo è carino perché ha questi brillantini piccolissimi come vedete dà proprio un punto luce senza essere troppo pacchiano e sparaflesciante Un'altra invece sono queste farfalle questa è un pochino più grossa rispetto all'altro però anche questa ha dei punti luce ma anche questa non risulta assolutamente pacchiana Inoltre, poi, questo tris di cuori Dov'è? Come va messo? Ok Questo tris di cuori, anche questo con qualche brillantino ma non è assolutamente una cosa pacchiana Un'altra ancora è questo cuoricino con scritto love questo non ha assolutamente brillantini è molto semplice in argento con questo cuoricino con scritto love e inoltre questo cuore spezzato con scritto best friend sono due catene, sono due collane separate questi qui hanno sia la scritta che questi brillantini sulla spezzatura dei due cuori e questo è il giveaway questi sono i premi che vi arriveranno a casa allora ripassiamo un attimino le regole generali dei miei soliti giveaway allora dovete essere innanzitutto iscritti al mio canale essere maggiorenni o se siete minorenni avere comunque il consenso dei genitori per partecipare e per poi ricevere i premi essere residente in Italia e lasciare almeno un commento qui sotto allora siccome voglio rifare un nuovo video ask in questo caso con l'essere mitologico sul divano che io non so me lo dite voi? com'è che si chiama quella figura lì? Simone perché vorrei fare appunto un altro video ask insieme a Simone e se volete potete lasciarci tutte le domande che volete anche sulla gravidanza come la stiamo vivendo sulla nostra vita privata su quante volte mangio al giorno su quello che volete quindi lasciatemi le vostre domande qui sotto inerenti comunque ai video ask premetto inoltre che se i commenti non saranno comunque inerenti all'argomento che io vi ho dato non verranno comunque conteggiati quindi diciamo pensateci bene prima di lasciare comunque un commento con scritto solo si partecipo oppure si spero di vincere no io ho specificatamente ho specificame specifica? ho specificato io ho specificato comunque che il commento che dovete lasciare per poter essere estratti poi successivamente deve essere una domanda per un futuro video ask quindi lasciatemi comunque una domanda potete lasciarmi tutte le domande che volete ma alternate quindi commentate aspettate che commenti qualcun altro e poi ricommentate quindi questo è quanto io spero che partecipiate in tanti a questo giveaway ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network andatevi ad iscrivere anche agli altri miei social network i cui link li trovate tutti quanti in infobox io torno a crociolarmi nel letto perché ho tanto sonno si vede dagli occhi che ho tanto 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 sonno però devo dire fatemi complimenti cioè fatemi un pollice in su per i capelli perché sono veramente veramente belli, gonfi belli, voluminosi non ce li ho mai avuti così voluminosi in tutta la mia vita io vi saluto vi mando un bacione grandissimo ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao